e ancora parecchio dietro si taglia via col piede là io l'ho messo giù per non stare è fatta perfetta vai un pochino vai deciso ooooh con una ruota diglielo no 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 cerca di essere deciso o vai via che è un piacere vai vai deciso che vai su vai su come niente bravi sassi vai che vuoi bene deciso eh vai parti da lì e vai non cazzo picchio non alzarla tira e basta tre volte era come niente no ma è questione di mentalità ma poi li è ghiaccio no no! si! inclinco dentro subito... vai ti tengo! vai successo!! guarda il bull che cos'è? vabbia ti hai dato po' ti hai dato po' e il ghiaccio ehi, c'è il ghiaccio c'è il ghiaccio ti filmo anche la panza te però eh oh tutta con una ruota eh è stanco tira forte zona chiudice ma che ti cade col manubro sulle palle perchè è zata così? perchè è impennato? no minchia in 5 per recuperare una gas gas che pesa 35 kg sandro provare la gas gas dai provare la gas gas adesso andiamo a casa di ghiaccio non 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 non